Appassionati e collezionisti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Lo spazio all'interno del raccoglitore Adelani XL è ormai esaurito, addirittura ho dovuto togliere le carte di Topolino per permettermi di aggiungere le nuove carte presenti nelle box aggiornamenti. E pensare che all'interno dello starter pack erano indicate soltanto 29 limited card, ora con le box aggiornamenti, con Divaio, con le altre limited e addirittura con altre limited in arrivo, che ne parleremo ovviamente a breve, non c'è praticamente più spazio. Per non parlare poi anche delle bis, bis, quelle che hanno il solito numero. Insomma, la Palini con questa collezione ci vuole fare veramente impazzire. E quindi l'ultima limited presente nel bomber di novembre, che ovviamente oggi andremo ad aprire, non sarà l'ultima card, diciamo, esclusiva. E quindi armatevi di pazienza perché ci sta che si debba ancora un pochino giocare con le tasche presenti all'interno dei fogli del raccoglitore. Ma come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, tutto gratuito e tutto per voi collezionisti e appassionati. Un mi piace, un commento, piccoli gesti per crescere insieme. Naturalmente vi invito anche a seguirmi su Instagram, gom.txt, perché è lì che pubblico quotidianamente tutte le nuove italiane durante il mondo di figurine e carte sportive. Ma prima di passare quindi a vedere il bomber e qualche pacchetto da spacchettare insieme, vi ricordo che prossima settimana sarà un'importante uscita in edicola e suscita da Palini. Infatti sarà disponibile il pacchetto Momentum Oro, 12 euro, massi se non all'interno ben due bustine regolari, l'attenzione, una Momentum garantita e otto carte esclusive, tra cui anche la Momentum Oro. E tutto questo andremo ad aprirlo ovviamente anche qua sul canale dal 19 novembre. Ed ecco il contenuto del nostro video odierno. Abbiamo quindi il bomber con la Limited e due bustine e tre bustine Adrenaline appartenenti al box Plus che vi ricordo, riconoscibile dal numero 91 impresso nell'etichetta gialla. Bomber aperto, la nostra Limited è pronta ad essere inserita all'interno ovviamente nel nostro collettore e due bustine omaggio che adesso andremo ad aprirci. Ma prima un'importantissima novità. Infatti all'interno del prossimo bomber in edicola del 24 gennaio ci saranno in regalo l'album e sei pacchetti di figurine dei calciatori Palini 24-25. Attualmente ancora non abbiamo una data precisa dell'uscita della nuova raccolta. Si pensa ovviamente come sempre intorno alla metà di dicembre anche se a regola da prossima settimana dovremo cominciare ad avere più informazioni a riguardo. Ed ecco finalmente l'ultima forse Limited Edition di questa collezione ovviamente cristante in maglia Roma. Andiamo quindi poi ad aprirci i pacchetti promozionali all'interno del bomber. Abbiamo Di Marco Inter, Ndica Roma, lo scuetto del Cagliari, il codicino che ovviamente vi regalo, Sottil della Fiorentina, Pablo Mari Monza e Montipò del Verona. Secondo pacchetto promozionale abbiamo Duda Verona, poi Ampalo Influencer, Asrani Diamante, altro codice, eccolo. Poi abbiamo Angelinio e Bremer della Juventus, per finire Orsolini del Bologna. Passiamo quindi poi ai pacchetti plus con codice per voi. Abbiamo poi Colasinac Atalanta, Gendry, abbiamo Dia Plus, Sanchez Plus, Mancini Influencer e Josef Martinez. Secondo pacchetto, ragazzi ovviamente ne ho così pochi perché in edicola non ne avevano più. Abbiamo il codice, poi Pellegrini, Zanetti Plus Mister, abbiamo Solbakken Plus. Attenzione sotto c'è qualcosa di interessante, Diamante, abbiamo, attenzione, abbiamo trovato l'Invincibile. Bellissima questa Invincibile trovata in tre pacchetti casuali. Pellegrini poi in maglia d'oro. Ultimo dei tre pacchetti, guardiamo un po' cosa riusciamo a trovare dopo l'Invincibile. Abbiamo il codice ovviamente per voi, poi Zarraga Udinese, Di Francesco Plus Mister, Kalulu Plus, Lo Stema dell'Inter Plus, Malinoski Plus, Super Stella, veramente molto bella, tanto mi mancava, e Tosby in maglia Genova. E che dire, l'Invincibile ci siamo portati a casa con tre pacchetti. Ancora nessuna fotografa, ancora nessuna momentum, ma sono sicuro che nel prossimo video ne troveremo qualcuna di importante. Io come sempre naturalmente vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Con questa Invincibile io naturalmente vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!